Ma lei è favorevole o contrario ad Addio Pizzo? Vedi, a volte c'è sempre il pro e il concio. A volte è una cosa buona, a volte è una cosa sbagliata. E quando è sbagliata? È sbagliata quando, ad esempio, questa situazione va sempre in una maniera. Ma come dire, un pochettino all'uno non fa il male a nessuno, ma sempre una persona è male. Ma se qualcuno le chiedesse il pizzo? Eh, io lo darei subito. Io dicevo in tasca io.